Amici miei, bentornati ancora una volta qui sul canale. Oggi mi vedete così bello, felice e sorridente perché una delle mie applicazioni preferite in assoluto per iPad e non solo è stata aggiornata. Vi parlo ovviamente di Good Note che passa da Good Note 5, 5, a Good Note 6, 6. Perché ho fatto sto gioco di parole col 6 in inglese e italiano? Non lo so, così accontentiamo un po' tutti. Ma vabbè, procediamo subito in maniera diretta col dire una cosa, o meglio che questo aggiornamento si paga. Bene, male, adesso cerchiamo un attimino di capirlo e poi dopo ci concentriamo su tutti quelli che sono gli aggiornamenti effettivi in modo che se effettivamente questi aggiornamenti vi interessano lo acquistate, altrimenti rimane il vostro Good Note 5 che se avete acquistato sarà vostro, senza problemi, non dovete fare per forza aggiornamenti, non dovete per forza fare abbonamenti, non dovete fare nulla, Good Note 5 è vostro e state tranquilli, potete continuarlo ad utilizzare senza alcun problema. E questo secondo me già è un buon punto di partenza, detto questo, detto che se avete Good Note 5 è vostro, state tranquilli, non avete bisogno per forza di Good Note 6, vi dico che se volete provare il 6 potete farlo per una settimana in modo da capire più o meno se ha senso o meno per voi. Se invece volete proprio comprarlo e renderlo vostro, potreste optare per due soluzioni. La prima è l'abbonamento annuale, che non è costoso secondo me, 10€ all'anno ci possono assolutamente stare. Parliamo di meno di 1€ al mese, quindi se la utilizzate tanto ha tanto senso, poi dopo vedremo anche perché, visto gli aggiornamenti che effettivamente ci sono nell'app, ma la cosa bella è che potete anche effettuare l'acquisto, diciamo definitivo in un certo senso, nel senso, la coprate una volta ed è sempre vostra. Questo acquisto vi viene a fare 30€. Alto, basso? Non lo so. Se io mi metto a fare, diciamo, un confronto con tutte le altre applicazioni per prendere appunti con Apple Pencil, eccetera, eccetera, vi dico che secondo me ci sta. Perché ci sta? Beh, ora ci vediamo un po' tutti gli aggiornamenti. Allora, partiamo dal fatto che GoodNote cambia proprio esteticamente, cambia l'icona, molto carina devo dire. Tra l'altro questo cambiamento, piccola parentesi, secondo me si avvicina molto molto bene anche a quello che è il nuovo iPadOS in arrivo, ok? Quindi iPadOS 17. Torna da noi, cambia esteticamente, cambia l'icona, come vi ho detto prima, ma cambia proprio anche un po' l'interfaccia. E devo dire subito che la modalità scura è decisamente meglio, è molto più figa. Cioè qui la utilizzo con piacere, mi piace, brava, cioè diventa proprio nero, nero, nero e anche i colori sono proprio ben gestiti. Secondo me il lato colori hanno lavorato veramente bene e sapete che io sono abbastanza puntiglioso su queste cose. Cioè, soprattutto quando un'applicazione mi piace tende ad essere molto severo il lato grafico, il lato proprio user experience. E qui è stato fatto un bel lavoro, secondo me. Non viene stravolta l'applicazione, però vengono fatte quelle piccole modifiche che aggiornano e la rendono un attimino più moderna e vi facilitano un po' l'utilizzo. Detto questo, partiamo dai cambiamenti nella schermata principale, dove effettivamente non cambia tantissimo, ma effettivamente le, diciamo, cartelle sono personalizzabili. E i quaderni, e in generale un po' tutto quello che è all'interno dell'applicazione, diventa un attimino più tridimensionale. Passatevi un po' la cosa, non rende forse tantissimo al video, ma se la provate ve ne accorgete subito. Molto belli i quaderni e molto belli anche le cartelle. Le cartelle che si possono personalizzare, come ho detto prima, come si personalizzano? Beh, tappate un attimino sul nome della cartella e potete scegliere o il colore, e di colori ce ne abbiamo abbastanza, anche molto carini. E poi potete anche selezionare delle icone, che permettono di, diciamo, personalizzare al meglio proprio quello che è il look generale della cartella. Mi piace molto, è una chicchettina che può sembrare una stupidata, però ci sta, sono quelle chicche che poi ti durano un po' l'esperienza e ti fanno utilizzare con molto più piacere l'applicazione. Migliora e aumentano un po' anche quelli che sono le copertine, che per molti sono importanti, soprattutto per quanto riguarda la personalizzazione. Lo so perché seguo molti altri video su GoodNotes, so come ragionano quelli che utilizzano queste app, e queste nuove copertine non sono affatto male. Tra l'altro anche leggermente personalizzabili, in quanto se voi scegliete una copertina potete cambiare il colore. Stupidata, vi ripeto, per alcuni no. Anche per me, secondo me, è comunque una chicchia che vi coccola. È un'app che continua a coccolare, in un certo senso, comunque non rinunciando a quelli che sono poi gli aggiornamenti importanti, che sono relativi naturalmente all'utilizzo effettivo. E per parlarne, entriamo subito nell'applicazione. Entrando proprio nell'app, o per meglio dire, in un quaderno, vediamo che effettivamente anche qui cambiano un po' di cose. Cambia il colore, diventa di questo blu un po' più intenso, molto più professionale allo sguardo, ma molto anche più piacevole a utilizzare. Si vede che è cambiata, si vede che è moderna, l'ho detto mo' e non lo dico più. E cambiano anche un po' le iconcine, un po' in alto per la penna, la gomma, che diventano un po' più tonde, un po' più carine. Ma la cosa forse più importante, secondo me, è che in alto, nella parte centrale proprio, abbiamo tre pulsanti. Quello dedicato proprio alla scrittura con la pencil, quindi con la penna, quindi la versione un po' più classica. E poi abbiamo il tasto del microfono, che vi permette di registrare, appunto, gli audio, nei momenti in cui state prendendo appunti. Penso all'università, penso a una riunione, penso a tutto quello che riguarda un po' questi utilizzi. Ma soprattutto entra quell'icona lì della tastiera. A cosa serve? Beh, serve in poche parole a trasformare, passatemi un po' la cosa, poi magari correggetemi se avete un altro modo per descriverla meglio, appunto, le pagine di un quaderno in documenti. Perché dico questo? Beh, perché in poche parole la pagina diventa una specie di foglio di Word. Quindi c'è il titolo, c'è la possibilità di gestire il titolo, i paragrafi, di gestire il grassetto, l'italic, la sottolineatura e tutto quello che riguarda, appunto, la scrittura, diciamo, a tastiera. Un aggiornamento importante che non è la stessa cosa dell'inserire un box di testo, che fanno un po' tutte le altre applicazioni. Lo fanno anche altre applicazioni? Sì, ma ora arriva qui e arriva anche in maniera interessante e intelligente perché poi viene sfruttata al meglio questa, diciamo, modalità con l'intelligenza artificiale di cui parliamo a breve. Un'altra cosa molto interessante è che ora, una piccola, diciamo, feature che è stata aggiunta, non solo potete effettuare un doppio tap per tornare indietro, non solo potete utilizzare la gomma per cancellare, ma è una stupidata, ma da quando lo so, già l'ho utilizzata un bel po', se voi scrivete un qualcosa e poi, come appunto su carta e penna, volete eliminarlo con un gesto, diciamo, per oscurare un po' il tutto, potete farlo. L'app vi legge quella cosa come un modo di eliminare, appunto, quella porzione di testo, ok? Il che non è affatto male, secondo me. Un'altra cosa che poi migliora in maniera molto interessante e precisa, devo dire, è la modalità ricerca, che avviene un po' all'interno dell'app di GoodNote. Se voi vi mettete a cercare una parola specifica, anche se scritta a mano con Apple Pencil, ora l'app la legge e la trova in maniera molto interessante, soprattutto molto veloce e molto più precisa. In generale è migliorata, è molto più precisa, l'ho notato sin da subito. Ho fatto un po' di prove, anche con parole un po' più particolari e mi ha beccato più volte questa cosa. Forse è una mia impressione, fatemi sapere anche voi se la provate, però ho notato proprio tanto questa cosa. Ma, ovviamente, l'aggiornamento più importante che entra, appunto, in GoodNote 6 è l'intelligenza artificiale. Adesso la sto provando da poco, me la sono studiata però abbastanza bene, cioè mi sono messo ore e ore qua sopra a provare, provare e provare. Vi dico che con la tastiera, cioè con il testo-testo, funziona. Con la Apple Pencil, secondo me, in Italia almeno, non è ancora arrivata l'intelligenza artificiale. Devo ancora capire bene, sicuramente torneremo con altri video, approfondimenti, magari trucchi, cose, funzioni, eccetera, eccetera. Però, secondo me, ancora non è arrivata, perché non c'è stato modo proprio di sfruttarla al meglio. Nel senso, GoodNote, con questa intelligenza artificiale, cosa vuole fare? Beh, vuole aiutarvi anche nella modalità di scrittura. Infatti c'è proprio un test nel momento in cui entrate nell'applicazione, tra l'altro con parole un po' strane, con frasi un po' strane. Non so se riesco a metterla qui, ma vabbè. Detto questo, questo esercizio cosa permette di fare all'applicazione? Permette di imparare il modo in cui voi scrivete, in corsivo, in stampatello e così via. In modo che, appunto, l'intelligenza artificiale vi aiuta nel momento in cui magari sbagliate una parola, ve la sottolinea in rosso e poi la modificate. Oppure vi dà delle soluzioni, tipo, che ne so, delle varianti di parole che magari possono comunque essere adatte a quel discorso. Ed è una cosa che secondo me ci sta. Come ci sta anche l'utilizzo di GoodNote in maniera molto più interessante e precisa, sempre grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di GoodNote appunto per la matematica, per lo studio della matematica. Ovviamente a scuola GoodNote è utilizzata per la maggior parte per le materie un attimino più così, no? Un po' più tecniche, passatevi un po' la cosa, quindi matematica, geometria, eccetera, eccetera. Ebbene, GoodNote ovviamente ha notato questa cosa e ha implementato l'intelligenza artificiale proprio sotto questo punto di vista. Ma qui ancora non ho avuto la possibilità di provarlo. Se c'è poi un modo, fatelo sapere qui sotto, effettueremo altri test. Ma da quello che so, entro fine anno dovrebbe arrivare tutto e l'applicazione dovrebbe essere bella che pronta. E poi nel 2024 arriveranno altre cose, altri aggiornamenti, altre implementazioni, miglioramenti, l'intelligenza artificiale e così via. Detto questo, detto che effettivamente con la penna non si può fare tantissimo di nuovo, a parte quel piccolo giochettino, vi dico che l'intelligenza artificiale ovviamente c'è e la potete subito provare con il testo. Come funziona? Beh funziona più o meno come in Notion e funziona più o meno come in tutte le applicazioni dedicate all'intelligenza artificiale. Se io infatti vado a selezionare una porzione di testo, per esempio qui vi ho fatto un piccolo esempio con questo script del mio, diciamo, uno dei miei ultimi shorts che ho caricato già sul giorno 99, nel caso recuperatelo, avete, l'andate a selezionare, avete nelle, diciamo, possibilità queste stelline. Queste stelline è, diciamo, l'intelligenza artificiale, è un po' il simbolo dell'intelligenza artificiale. E cosa potete fare? Beh, potete correggere la grammatica e l'ortografia, paragrafi, che ancora non ho capito benissimo come dovrebbe essere una divisione in paragrafi, cambia tono professionale, cordiale, deciso, allunga e accorcia. Se io per esempio tappo su allunga, l'intelligenza artificiale cosa fa? Prende quella porzione di testo, la analizza e la allunga ovviamente, e vi realizza uno script o comunque un testo con più dettagli, più informazioni. Adesso, vi ripeto, l'ho provata tantissimo? No, funziona bene, secondo me, se la cava con un po', se la mettete a confronto con altre applicazioni, se la cava anche abbastanza bene. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha bisogno di essere un po' allenata, dobbiamo ancora capirlo al meglio un attimino come funziona, però c'è e potrebbe essere comunque interessante. E per chi magari utilizzava GoodNote come app per brainstorming, appunti, aiuti, eccetera, eccetera, quest'arrivo potrebbe essere particolare, nel senso potrebbe essere effettivamente utile, potrebbe essere qualcosa di efficace, come potrebbe essere qualcosa di efficace per completare al meglio un po' tutte quelle che sono le funzioni che già avevamo qui. Se chi come me magari utilizza GoodNote per la lettura di PDF come brief, eccetera, eccetera, la modifica, eccetera, eccetera, ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare a magari leggere prima una determinata porzione, ad accorciare, a creare delle nuove porzioni di testo, a creare dei ragionamenti, tutte queste cose qui. E detto questo, effettivamente, per quanto riguarda gli aggiornamenti, ci siamo, cambia un po' esteticamente, arrivano delle nuove, diciamo, poi funzioni, o comunque nuove possibilità all'interno dello store, del marketplace di GoodNote, con tantissime possibilità, possibilità di comprare dei colori, delle aziende che possono tornare utili, tra l'altro con prezzi che secondo me sono comunque accessibili, 5 euro, 3 euro, 6 euro, e poi abbiamo anche la possibilità, vedete, di scaricare poi degli esercizi interattivi per gli esami, tra l'altro gratuiti, da quello che vedo, questa è la prima volta che mi esce, per esempio abbiamo corso pratico di matematica, corso di inglese, niente male, cinese, ci sono un bel po' di chicchettine che poi vanno ancora un pochettino studiate, come anche per quanto riguarda gli adesivi e tutte queste cose qua. E nulla, ragazzi, questo è tutto, arriva l'intelligenza artificiale, si migliora, si punta a migliorare l'utilizzo dell'Apple Pencil con l'intelligenza artificiale e si punta anche a un completamente automatico di quello che è la nostra scrittura, perché poi l'intelligenza artificiale e GoodNote capiranno un po' il nostro modo di scrivere, la nostra grafia, e nel momento in cui, diciamo, vogliamo completare una cosa, se ci esce, possiamo cliccare e scriverà, proprio come noi, quindi dobbiamo un attimo allenarla. Però è tutto da vedere. Per il momento io, da curioso approfondisco, vi manterrò aggiornati, voi valutate bene se effettuare questo acquisto o meno. Il mio consiglio è quello di provare, perché provare non vi costa nulla, avete una settimana di test, oppure effettuare prima un abbonamento annuale di 10 euro, che non so tanti se la utilizzate, comunque ci può stare, e poi nel caso, se effettivamente ha senso, la comprate una volta, così vi eliminate proprio questo abbonamento. Detto questo, ci vediamo al prossimo se ne sapete qui lo vanno nei primi nuovi video, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate, e cosa ne pensate proprio di questo aggiornamento. Grazie mille per la visione, e io torno a giocare qua, che è comunque interessante. Devo scaricarla anche su iPad Mini e Pro 11, quindi, piano piano. Alla prossima. Ciao.